È una creazione dei fan che le aziende hanno saputo sfruttare molto bene. È normale che nel mondo ci siano persone che dicono o è bianco, o è nero, o è Ferrari, o è Lamborghini, o è Sony, o è Microsoft, così. Io sono fiero di aver combattuto la console war quando quella vera, la Sega Nintendo era la vera console war degli anni 90, combattuta nel senso che lì sì che si andava a scuola e uno aveva Sony, uno aveva Mario, io il mio migliore, il tuo peggiore.